Presidente, due grandi campioni che legano il loro nome al territorio, all'ATL, che emozione c'è oggi nel sancire queste collaborazioni? C'è tanto orgoglio, c'è tanto orgoglio da Cunese perché leghiamo altri due campioni del mondo a quella che è la compagina dell'ATL, a quella che è la comunicazione che l'ATL vuole fare del proprio territorio, quindi comunichiamo il nostro territorio anche e soprattutto attraverso i volti di questi grandissimi sportivi. Con l'ingresso di Elisa Balsamo e Diego Colombari insieme a Marta Bassino riusciamo a comunicare il territorio per tutte le stagionalità perché attraverso Marta facciamo l'inverno, attraverso Diego ed Elisa riusciamo a raccontare il resto dell'anno, riusciamo a raccontare quella che è l'esperienza outdoor nel nostro territorio perché dallo sci alla bicicletta a tutto quello che può essere l'escursionismo riusciamo attraverso loro a raccontarlo, volti importanti, campioni del mondo, campioni del mondo che nonostante tutto tengono quella che è l'umiltà del tutto cunese, quindi la semplicità e l'umiltà che contraddistingue noi cunesi attraverso questi bei volti puliti, attraverso questi straordinari atleti sono sicuro che la nostra comunicazione sarà in grado di arrivare sempre più lontano. Per me è un grandissimo onore poter collaborare con l'ATL e loro già da questa primavera hanno dimostrato di credere in me e alla fine questa collaborazione ha anche portato fortuna quindi sono davvero più che contenta e onorata. Sicuramente è un'emozione forte, sono contento di poter rappresentare ancora di più cuneo nelle gare che farò sicuramente non me l'aspettavo, quando mi hanno comunicato questa cosa sono stato colpito da un evento di questo tipo e quindi non potevo fare altro che accettare e dire subito di sì. Poi ci abbiamo fatto già tutti questi bei video quindi non vi nasconto che anche la bellezza di questa collaborazione è anche poter fare delle cose che non ho mai fatto e quindi sono ben contento.